È una bella soddisfazione soprattutto il fatto che per la prima volta della storia abbiamo un presidente riconfermato, lo stesso colore politico riconfermato e buona parte della giunta riconfermata e il vicepresidente riconfermato. Credo che sia questo un dato politico, un dato storico, segno di un grande lavoro che è stato fatto in questi anni e che deve essere continuato e fatto ancora meglio. Sono stati anni complessi e soprattutto sappiamo che abbiamo di fronte tante problematiche sul campo, abbiamo tanti dossier su tutte le tematiche che riguardano la nostra regione, che da oggi pomeriggio lavoreremo in maniera incessante nell'interesse degli abruzzesi. Tra le mie tele ci sono ovviamente le criticità che vive il mondo agricolo abruzzese e italiano legate alle norme europee che stringono in maniera importante e in alcuni casi drammatiche quelle che sono la possibilità di fare agricoltura nella nostra regione, legate al Green Deal, legate alle criticità ambientali e che noi dobbiamo in qualche modo cercare di modificare e di rendere la vita possibile ai nostri agricoltori. L'agricoltura è uno di quegli strumenti che non solo mette a disposizione il cibo e quindi è un settore primario necessario e fondamentale per la nostra terra, ma siamo convinti che l'agricoltura è segno di valore, è segno di identità, è segno di storia, di tradizione della nostra terra. Punteremo ancora di più per far crescere le nostre aziende, per sostenerle e mantenerle, sapendo che l'innovazione, la leggezzazione e l'aggregazione sarà fondamentale e soprattutto per quelle che sono poi le criticità legate ai cambiamenti climatici che ovviamente ne generano le mille difficoltà, soprattutto in questi anni ed è il segno tangibile, ciò che si è verificato soprattutto lo scorso anno, di quello che può essere il quadro di riferimento. Però ecco, avere una disposizione importante risorsa per quanto riguarda il CSR che serviranno proprio a fare tutto questo e dovremo collegarlo necessariamente con un'azione ancora più incisiva di sburocratizzazione e di semplificazione di quella che è la vita. Poi abbiamo un grande tema ancora aperto che è il tema dell'acqua e su questo noi abbiamo lavorato in questi anni ricevendo molte risorse che abbiamo messo a disposizione delle società di gestione soprattutto per quanto riguarda l'ammodernamento delle reti e soprattutto per quanto riguarda la riduzione delle perdite. Saremo dietro alle società di gestione in maniera importante, in maniera determinata per far sì che questi interventi si realizzino il prima possibile e al meglio facendo ciò che è necessario per l'Abruzzo. Insomma, abbiamo tante criticità ma abbiamo soprattutto la convinzione e la certezza che questa è una grande regione fatta di donne e uomini che lavorano, che si impegnano, che hanno una storia, un'identità e che vogliono affrontare al meglio quella che può essere la prospettiva di crescita. Noi come regione dovremmo mettere a disposizione in maniera semplificata, in maniera serena, quelli che sono gli strumenti che la pubblica amministrazione nello specifico della regione ha.